Ciao a tutti ragazzi, sono TheBoxer e siamo tornati dopo tantissimi, sono tornato perché sto solo io in questa gameplay in live, ricordiamolo, siamo tornati su questa partita in Black Ops 2, non c'è Anthony Milione, sono solo io a registrare, ho deciso di non continuare nessuna serie ma di fare delle serie solo quando c'è lui e quindi faccio una partita diciamo veloce per dire, in Dominion, ho scelto Dominion perché mi piace molto e basta, quindi faremo sicuramente delle super bestemmie anche oggi, ci dispiace di non aver messo video in questi, sono quasi una settimana che non mettiamo video, ci dispiace ma non abbiamo avuto tempo, ok siamo qui, non credo, vediamo un po', va bene così, mettiamoci la Vector, proviamo a fare una bellissima, una bella partita, sperare che quella regione di Anthony Milione la caricherà, uso una Vector senza seconda area, infatti poi avete del cortello, infatti arriva la prima decisione di The Boxer, Vector silenziata, un attimo, qua non c'è nessuno, una Vector silenziata con caricatore rapido, arriva la seconda decisione di The Boxer, una Vector silenziata con caricatore rapido come specialità uso, scossa elettrica, come specialità uso, aspetta non mi ricordo, leggero e invisibile o fantasma, mi sembra fantasma, poi come seconda area e come seconda specialità, un attimo, uso Chakal come terza destrezza perché credo sarà forse la migliore, ed ecco qui la terza decisione di The Boxer, sta giocando molto sulla difensiva, speriamo che vi viene un gameplay live, un gameplay tutto per voi dopo un sacco di tempo, vediamo se si affaccia con quella persona di merda, dai cazzo devi morire, ma l'ho preso proprio, non l'ho visto, porco dio della madonna, Gesù bambino Cristo, padre Pio, va bene, non ci demoralizziamo, possiamo subito partire, ma non uccide nessuno, non serve un cazzo, ma dai camper di merda, ho buttato mo il C4, chi ti è stramorto, sono fuori, porco padre, vediamo un po' se è muoie qualcuno, se è muoie, nuovo verbo di The Boxer, questo non mi fa passare, bello, quasi una tripla, ma non arriva, oh drop shot che non arriva, 50 di asist, non ho capito chi io, chi era, forse era il cecchito della madonna, speriamo, facendo non una buona partita, passaggio a molto tempo, devo buttarmi un po' più, non stare più sulla difensiva, boxe e fa la doppia, attenzione, che giocatore, che ho fatto una stronzata, cazzo, ma sei tre tacchette, mannaggia, vaffacculo, fino ad ora siamo a tre minuti di video, tutto sommato, senza, la prima volta che faccio un video senza il grande, un altro assalitore ucciso, che grande questo, io penso che il C4 sarà, è la miglior ricompensa, miglior equipaggiamento, guardate abbiamo perso Charlie, vinto qui, sperando che arrivi qualcuno dalla porta, vedo un po', non viene nessuno, Boxer, attenzione, lo rinde, mamma mia che è giocatore Boxer, non muore, ce ne facciamo una ragione, oh Boxer, quando ne ha uccisi, cazzo, nel loro respawn, nel loro respawn, non posso morire cazzo, sono in un buon momento, eccolo qui, elicottero d'attacco nel loro respawn, assist, migrazione oh, sto porco Dio, bella partita fino ad ora di The Boxer, speriamo che non esca, per fortuna ne è uscito, una super parte di The Boxer, che potrebbe veramente andare in fondo, andiamo un po', stacciamo, ho fatto cadere tutto, porco Dio, uccisioni, cazzo, buttata di elicottero nel 27esimo minuto, ho fatto anche il bizarro orbitale, attenzione, Boxer vuole arrivare nel Lodestar, no, nel Roder, è due sole persone, cazzo, che gioco di merda, ma dai, solo due persone a combattere contro 17 di noi, dai cazzo, conquistiamo e faccio i muti per il Lodestar, benissimo, non entra nessuno, porco della madonna, ho buttato per senza niente quel coso, va bene, ragazzi, una buona prima parte della partita del 21.4, diciamo, non è un super risultato, non sono tantissime uccisioni, però, vi dico la verità, sto giocando bene per essere un live a cazzo di canale, ho fatto subito, veloce veloce, ho appena finito di parlare con altri milioni su Skype, mi hai detto che potevo farlo, sta installando Windows 8, quindi a breve, forse ci sarà, ma forse probabilmente, forse no, ci sarà un breve Earth Snidest di Windows 8, intanto, io cerco di prendere Alpha, buttiamo il bisatto orbitale per due persone, porco della madonna di Gesù, e lo uccide, non lo butto, ed eccoli qui, stanno entrando, stanno entrando i miei amici, per fortuna mi ha salvato le pacche quello, e ora ragazzi sono animali per tutti, sono buchi rari, buchi grandi, lo metto in cura a tutti, vai con Lodestar, Lodestar in live, ragazzi, non è chissà che cosa, però comunque è un Lodestar, Mattia Bar un bel Lodestar, guardatelo ragazzi, è la prima partita che faccio di oggi, quindi non dite sì, va bene, hai trovato quegli scarsi, sì sì, proprio così no, lo sto facendo un cazzo però, grazie, è uscito un altro, un altro è stato qua sotto, lo uccide, nella porta, non ho fatto tantissime uccisioni però, meglio di niente, ho fatto almeno il Lodestar, una bella partita, fino ad ora, alleato per fortuna il colpo fulminante, la gente è proprio falsa, escono perché hanno paura, attenzione, sblocca l'FMJ sulla Scorpion, un'arma che ho appena trovato, non pensavo che era una grandissima arma, sono un momento di silenzio, ragazzi, posso arrivare di nuovo all'elicottero, eccolo qui, un'altra eccessione, no, porco Dio della Madonna, mannaggia sanghi chita è morto, ma come si fa, ma vedi spiega, poi spiego questo, pozzetto sangue, tu possa avere un'emorragia, che causi la tua partita da questa, possa avere un'emorragia con grave perdite, che causi, che causi, la tua, la tua morte, no, la tua, la tua scomparsa da con te sta vita, mamma ragazzi, so anche l'italiano, se volete ve la scrivo nei commenti, quindi ho detto, mi sono scordato, no, chi ha la cazza di questa qui, pozzetto sangue, possa tu avere un'emorragia con gravi perdite, che portino alla tua, alla tua morte, no, che portino alla tua di partita da cotesta vita che terrena, mamma ragazzi, cosa ha detto The Boxer, voglio un like solo per questo, hanno messo l'oro, questo, della Madonna, porco, sto facendo una brutta partita ora, comunque ho mandato l'autostar, quindi credo che tutto sommato è una bella partita, cerchiamo di reale al mino a 40 prima della fine, cazzo, ma guardalo che camper, ma non è possibile, porca boia della Madonna, non è possibile, vi invito ad aggiungervi sul link del sto cazzo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mamma da boxer, se volete sfidare, sfidare me, sfidar me, se volete sfidarmi, basta aggiungetemi su Skype, aggiungetemi su Skype, che vi aggiungo su Xbox, ma sto scherzando, se volete sfidarmi aggiungetemi in coppastoscries, conquista anche l'area nemica, boxer, attenzione, muore questo, siamo a 3 tot, 3 tot, andiamo a dire al mino a 40 per questo bel gameplay, tutto per voi, è da un po' che non caricavamo, e cazzo, ma guardalo questo, che c'hai? di Gesù Christ, 39 e 11, ragazzi, tutto sommato, una bella partita della minghia, ma guarda, 25 secondi, ragazzi, devo fare l'ultima, l'ultima, almeno la quarantesima uccisione, ci devo riuscire, no, ci devo riuscire, è un obbligo, un obbligo, e la fa, 40 uccisioni, non fa niente che sono morto, perché c'è un cecchino di merda, ma tutto sommato, vediamo se la faccio io, l'ultima, sì, la faccio io, ragazzi, la faccio io, forse, con la C4, vediamo un po' se la fa vedere, è proprio così, fa vedere anche la mia l'ultima col C4, è una grande uccisione, proprio per voi, proprio per ritornare ai vecchi tempi, in cui bestemmiamo, bestemmiamo poco in questa partita, ringrazio a tutti, ed eccoci qui, 200-144, uccisioni 41, 13 morti, ho catturato 4 bandiere, difese 12, 4.410 punti, ottima questa partita di The Boxer, che dire, siamo a quasi 12 minuti e 15 secondi, abbiamo sbloccato la mimetica, c'è un'altra partita da Slums, non credo che la farò, comunque, tutto sommato, questa bella partita, vi ricordo di iscriversi, di iscrivervi al mio canale, no, al nostro canale, perché non è il mio canale, è il canale di Anthony Milione, aggiungeteci su Skype, su Twitter, su Facebook, su Xbox, su PS3, dove casi c'è da aggiungere, da casa mia è tutto, e da Avellino è tutto, ciao e al prossimo video, bella!